Un caro saluto a tutte e a tutti, in questi giorni si sta parlando con molta insistenza per il settore dell'auto di una fusione possibile fra la FCA Fiat Chrysler e la Renault. Se questo dovesse avvenire saremmo di fronte al terzo gruppo al mondo con circa 9 milioni di auto prodotte all'anno. Se si aggiungessero a questo anche i giapponesi saremmo di fronte al primo gruppo mondiale con 15 milioni di vetture prodotte. Quindi un'operazione a dir poco colossale. Di che cosa vogliamo discutere? Del modo col quale i singoli governi si occupano dell'argomento. Se vogliamo andare al passato ricordiamo Obama che intervenne in modo prepotente e positivo nella crisi dell'automobile americana e fu quello che in qualche modo da presidente favorì la fusione fra la Chrysler e la Fiat, salvando in questo modo posto il lavoro una prospettiva industriale negli Stati Uniti e favorendo anche un andamento positivo in Italia per quello che ci riguardava. Vorremmo che la stessa attenzione a questo argomento per la sua importanza venisse dedicata dal governo italiano. Non sentiamo ancora nessun interessamento particolare, mentre da parte francese i ministri competenti hanno già messo le mani avanti alla francese. Se c'è questa fusione deve inglobare anche i giapponesi, deve essere una fusione 50 e 50 in cui nessuno prevale, non si deve toccare un posto di lavoro in Francia. Ricorda vagamente questa impostazione quello che è capitato per la Fincantieri. In sostanza siamo di fronte ad un grande evento che ha le sue potenzialità, ma anche i suoi rischi, i possibili errori si possono compiere, la sovrapposizione delle produzioni potrebbe mettere a rischio questo o quello stabilimento in Italia da altre parti. Non vorremmo essere, come capita spesso, una nazione soccombente di fronte alla difesa da parte delle altre nazioni delle proprie industrie nazionali. Quindi chiediamo al governo di darsi una mossa, di occuparsi di questo argomento, di pronunciarsi e naturalmente di favorire tutti quegli incontri chiarificatori fra l'azienda, i sindacati e lo stesso governo che possano dare solidità a questa eventuale prospettiva industriale.